Ed eccoci qui ragazzi e ragazze pronti per continuare su questa nuovissima collaborazione con Plyon Italia Ringrazio tutto lo staff di Plyon Italia per avermi gentilmente concesso di portare Persona 3 Reload in versione PS5 sul mio canale YouTube Ringrazio Alessandra di Plyon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PS5 Ringrazio ovviamente Atrus, tutti gli iscritti che mi seguono ma anche i non iscritti Vi avviso ragazzi, io lo metto anche in descrizione, i gameplay potrebbero contenere degli spoiler Quindi siete avvisati, adesso possiamo andare avanti Nella mia stanza, sì nel dormitorio, è sera quindi devo andare a dormire Quindi dovrò andare a riposare, beh giustamente dopo una lunga giornata è giusto andare un po' a riposare Allora dobbiamo, guarda armadio, qui abbiamo il letto Scrivania, ok vai Dovrei andare a letto Sì, così si dice quindi dovrei riposare quindi per me va benissimo Va molto molto bene Succede qualcosa ragazzi Sono senza forze, sarà perché non sono ancora abituato a vivere qui? Può essere Può essere Può succedere tranquillamente Dovrei abituarti Chi era quell'anziano? Nel sogno della scorsa notte Ah E cos'era quel discorso sul contratto? Mmm Mmm Se non è necessario, non è necessario più semplice. La mia ricerca è riuscita, la mia ricerca è vero. È un caso che non è diverso. Ma sembra che questo è molto molto... D'accordo. È un ragazzo classico, non? Se un ragazzo è un ragazzo, non? C'è un ragazzo che non è necessario. ma che sia necessario ... 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Ok, se ci sono dei miei, se ci sono dei miei, se ci sono sicuro che ci sono dei miei Cosa è un caso che ci sono? Sanada, sono questi? Ok, ma... ma... ...ma cosa è che ci sono? Ah! Ma che cosa? Ma che cosa? Il presidente è il lavoro, Takeba. Sì, tu è stato in giocato a lui, e riuscire a riuscire a riuscire a riuscire Eh, i primi? Perchè non lo so, non lo so... Akihiko, l'abbiamo venuto a te. Vi facciare la responsabilità Perchè si è deciso che erano. Ma che cosa stai facendo? Perchè! Ho capito! Un forte rumore mi ha svegliato Forse dovrei controllare cosa succede fuori Sì, forse Una spada corta, quindi abbiamo subito Ottenuto un'arma ragazzi Bene, bene, molto molto bene Molto bene Mamma mia Dobbiamo raggiungere un posto sicuro Sì, sono d'accordo anch'io, ma Ok, fuori è pericoloso, quindi Vabbè, quindi dobbiamo andare da qualche parte qui ragazzi Ok, fuori non è sicuro, quindi dove si va? Sotto la scrivania, cosa devo dirti? Vi è un po' qui Eh, lo so, meglio non restare qui Allora dove andiamo? Dove si va? Ok, andiamo al piano di sopra Ok Andrà tutto bene, speriamo Speriamo che sia così ragazzi Allora Andiamo nella mia stanza a questo punto Andiamo nella mia stanza Andiamo nella mia stanza E un po' E sì, dobbiamo tornare da lei, quindi Sì, muoviamoci Sì, muoviamoci Ho ben capito, ma Dove? Non sono sicuro che faranno qualcosa al riguardo Dobbiamo pensare ad andare via Eh, ovvio Non sto scherzando, siamo in pericolo Dobbiamo scappare in fretta Non preoccuparti, non resta più nessuno Possiamo sbrigarci e scappare Presto, dobbiamo salire ancora Ah Andiamo ancora sopra allora Quindi mi sembra di capire che dobbiamo salire È inutile andare per le stanze Ok Comunque mette ansia ragazzi Mette veramente molta ansia Ok Ok ...d'accordo? Alla prossima 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 Alla Alla prossima 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 Basta Alla prossima Diaboo Alla prossima Aumento Alla prossima 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 Rango Alla prossima Perfetto Alla prossima 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 Ecco qui Meglio Alla prossima 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 Allora Alla prossima Grazie a tutti E il vostro Alla prossima